Tabaccherie nel Mirino in provincia di Brindisi con due colpi messi a segno tra la notte e le prime ore della mattinata. A San Piero Vernotico i ladri hanno preso di mira la tabaccheria di via Brindisi. Dopo aver bucato la Saracinesca hanno spaccato le vetrate e si sono introdotti nell'attività di Elio Costantini e figli facendo incetta di gratte e vinci, sigarette e macchinetta, cambia soldi. Il bottino monterebbe a circa 6.000 euro, sebbene ancora in corso di quantificazione. Indagano sul colpo i carabinieri della locale stazione. I ladri sono stati velocissimi dopo aver forzato l'ingresso facendo scattare l'allarme e hanno impiegato poco più di un minuto per arraffare il maltolto e dileguarsi. Militari a lavoro anche a Casalini, frazione di Cisternino, dopo il furto alla tabaccheria del 33enne Quirico Specchia di via Giovanni XXIII, dove intorno alle 3 del mattino un paio di persone incappucciate hanno forzato la Saracinesca introducendosi nel locale, arraffando sigarette e gratte e vinci per circa 700 euro. Il commerciante, che abita il piano superiore dell'attività, svegliato dai rumori, ha avvisato il 112 ma i ladri sono riusciti a montare su un'auto e far perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri della compagnia di Fasano.